Quando dovete partire là, tornate indietro e riprendete i vostri posti di partenza. Quando dovete tornare ai vostri posti di partenza, andate a braccetto e poi puntate. E poi ripartite quando lo dico io. Vabbè, è facile. Non dovete rimanere là, quindi dovete poi tornare ai vostri posti. Le ultime coppie sanno quelle che voi sfruttatele, perché non vi faranno tanti movimenti. Praticamente saranno solo sul posto. Ce ne può fregare di meno. Allora, facciamo la prova? Sì. Giorgino, ci sei? Un e sei? Un e Giorgino? Giorgino! Giorgino! Un e sei? Un e sei? Oh, che ovvo! Un e sei? Ah, dai, io ci vedei. Ma perché dovete mettere la sua avutomolo? Scusate, mettiti da sopra, dal pulpito che vedi meglio in tutta la situation. Tutto qua. Ci vede un po'? Chi sei da un angolo? Vabbè, ok. Da capo? Da capo, eh? Te già, bello? No, piano. Pronto, io devo il piegno. Fermi. Fermi, fermi, fermi! Fermi. Sì, mi raccomando, seguite la mia voce. La voce mia è la guida. Poi? 5, 6, 5, 6, 7. Vai! 1, 2, seconda coppia. Ora, forza, torce, vai! Terza coppia, vai! Quattro, vai, forza! Quinta coppia, vai! Forza, però! Torniamo! Tornate, vi pronte? Allora, braccio, braccio. Forza, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, contrario. Porta, torce, ora, hai due con noi! ancora per cento facciamo uno forza basta basta tutti al vostro posto 5 5 5 4 5 1 2 3 3 3 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 8 8 8 5 6 6 9 9 10 10 10 11